Pronto? Sheila, raggiungetemi subito. Ma dove ti trovi adesso? E questo è uno di quei casi in cui più siamo e meglio è. Sbrigatemi, la festa è appena cominciata. Deve essere un bando in maschera. Ehi, ehi, dov'è questa festa? Ancora con i pazienti, capito? Non sono mai stata di una festa organizzata in deposito. Temo che sarà una festa un po' insolita. Ancora con i pazienti. Ancora con i pazienti. Ancora con i pazienti. Ancora con i pazienti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.